Credo che siamo sulla strada giusta, dopo un anno, sempre qui a Labra, ritorniamo con una situazione politica nuova, ma sicuramente con tanto entusiasmo ritrovato dopo un anno di grande incertezza in questo Paese, con delle sfide che ci aspettano domani, ma una cosa è certa, noi ci siamo, vogliamo cambiare l'Italia, siamo pronti a metterci a disposizione, anche perché abbiamo una forza, abbiamo un grande allenatore, come ci ha detto oggi Francesco Rutelli, ma soprattutto abbiamo tanti ragazzi, tanti giovani, tante donne e tanti amici su tutto il territorio che hanno voglia di mettersi in gioco e su questo sicuramente noi daremo un nostro contributo, un servizio vero al nostro Paese, nei nostri territori e nella nostra società.